Musica Presidente, non è bastato il cuore per cercare di evitare una sconfitta che sembrava certa a fine primo tempo e che è rimasta in bilico, invece poi grazie al tentativo di rimonta nella ripresa si è pagato quell'inizio shock quei primi minuti in cui il Bocale ha faticato ad entrare in partita e la Palmese ne ha approfittato Sì, tutto due, tutto benissimo, non siamo entrati in campo, l'approccio è stato veramente disastroso e noi siamo quelli del secondo tempo, perché poi alla fine il secondo tempo non credo che ci sia stata storia se saremmo stati capaci a pareggiare nessuno poteva dire niente, secondo me però il primo tempo è disastroso, siamo stati veramente in apnea totale perché non abbiamo capito niente errori su errori, errori matornali tra l'altro, anche il portiere stesso rispinge una palla corta voglio dire dell'ABC questo però è piaciuta la reazione, è piaciuta anche la paura che abbiamo messo perché poi a un certo punto arriviamo a un pallone in campo come se niente fosse voglio dire anche questo, fa capire molto che eravamo per lì per veramente pareggiare questa partita e durava un altro pochino qualche indecisione dell'arbitro, qualche decisione dell'arbitro secondo me è sbagliata ma che sicuramente non ha inciso per quello che è il risultato di buono prendiamo appunto il secondo tempo che ci fa ben sperare anche perché abbiamo visto finalmente in campo il valore assoluto di questa squadra con Tavano a centrocampo insieme a Meduri che ha fatto tutta la partita e si è sbloccato finalmente Nicolau e ho visto un bravo Marco Lafaci in 2007 che sta spingendo per entrare sono contentissimo per la partita che ha fatto appunto il secondo tempo Antonio che ha dato molta sicurezza, Antonio Chilà in porta questo forse ci mancava e niente, rammaricati appunto per il primo tempo che abbiamo regalato ma contentissimi per la reazione del secondo che senza ombra di dubbio e senza che nessuno possa contraddirmi il pareggio a quel punto ci sarebbe stato, sarebbe stato meritato Si parla appunto di reazione che è arrivata tardiva nel secondo tempo quest'oggi reazione alla quale si è chiamata il Bocale che ha di fronte due impegni casalinghi consecutivi contro il Rende e Soriano in un campionato che comunque si sta dimostrando molto equilibrato cominciare a macinare punti adesso, a recuperare punti è fondamentale Assolutamente sì, ci mancano secondo me ci manca qualche punto ci manca qualche punto con l'isola coprizzuta in casa per il resto il ruolino di marcia non sarebbe stato male ecco, se oggi qua avessimo preso un punticino e sì, è un campionato molto equilibrato, strano dove quelli che sembrano spacciati stanno dando filo da torcere a tutti tenendo per esempio presente che ancora siamo tra parentesi al calcio d'agosto quindi niente sarà un campionato lunghissimo ciao Pietro sarà un campionato lunghissimo sarà un campionato avvincente sono sicuro e noi non lasceremo niente al caso tanto è vero che già in settimana arriveranno due rinforzi importanti e molto probabilmente anche la ciliegina sulla torta che stiamo aspettando qualche anno che dovrebbe essere l'attaccante quindi contiamo di essere presenti e di dare un contributo anche come società a questa squadra grazie grazie mister, un peccato aver regalato se mi passi il termine il primo tempo alla Palmese perché nel secondo tempo c'è stata una bella reazione del Bocale che ha rimesso in bilico una partita che sembrava ormai persa quell'inizio shock, quei primi sette minuti hanno davvero segnato un po' tutta la partita poi è normale, quando vieni in un campo come la Palmi contro una squadra forte come la Palmese guidata da un mister preparatissimo come Zito non puoi regalare niente quando parti sotto due gol in sette minuti è difficile per qualsiasi squadra poi prendiamo pure il terzo gol diciamo al primo tempo non siamo entrati in campo non siamo proprio entrati in campo e questo mi preoccupa mi preoccupa perché è un campionato dove non puoi permettere non puoi permettere queste distrazioni non puoi permettere questi calli di concentrazione che poi non so come le devo chiamare visto che non siamo entrati proprio in campo e quindi questo mi preoccupa da un lato mi lascia un po' tranquillo la reazione del secondo tempo dove loro non hanno superato il centrocampo e quindi un tempo a testa secondo me un pareggio era giusto però purtroppo il calcio è questo se vai fuori casa o anche in casa perché purtroppo questa è una cosa mentale non conta se sei in casa o fuori casa bisogna approcciare le partite diversamente oggi le abbiamo approcciate malissimo e abbiamo visto il risultato 3-0 al primo tempo ti ripeto mi rassicuro un pochettino il fatto che c'è stata la reazione che la squadra è viva e che adesso avremo due partite in casa da non poter sbagliare assolutamente ti chiedo quali sono stati in un certo senso non dico proprio le tue parole durante l'intervallo ai ragazzi per pronarli per scuoterli dato che sembrava una partita ormai persa cosa hai detto in sostanza per farli tornare in campo con quella verve che comunque era completamente diversa rispetto alla prima frazione no ma in 10 minuti di intervallo io forse ho parlato 2-3 minuti quindi non ho parlato di situazioni tattiche perché non era un problema di situazioni tattiche l'abbiamo visto al secondo tempo siamo entrati allo stesso modo tatticamente del primo tempo quindi non era il problema tattico era un problema di testa li ho spronati mi sono un po' innervosito tu mi conosci il mio carattere è un po' vulcanico quindi sono entrato non so se quello che ho rotto se ho rotto tutte le borracce se ho rotto tutto ciò che c'era nella cesta degli indumenti perché entrare in campo in quel modo vuol dire o non avere sangue nelle vene oppure non poter giocare questi campionati quindi ho accennato queste frasi e al secondo tempo si è vista la reazione dei ragazzi a cui faccio i complimenti per il secondo tempo grazie a voi grazie a voi